Tre lavoratori in nero, uno dei quali con un familiare convivente che percepiva il reddito di cittadinanza. Questo quanto scoperto dalla compagnia di Arezzo della Guardia di Finanza nell'ambito di alcuni servizi svolti in materia di sommerso dal lavoro. Le irregolarità sono emerse nel corso di una serie di accertamenti in un'attività di ristorazione e catering. Qui infatti i finanzieri si sono trovati di fronte tre lavoratori impiegati completamente in nero, circostanza che ha portato alla conseguente sospensione dell'attività. Dalle banche dati è poi emerso anche che il familiare convivente di uno dei lavoratori in nero, residente ad Arezzo, aveva richiesto il reddito di cittadinanza ottenendo un sussidio di circa 1200 euro erogati per alcuni mesi del 2019. In questo caso il responsabile è stato denunciato alla procura della Repubblica di Arezzo per violazione della normativa sul reddito di cittadinanza che sanziona con la reclusione da uno a tre anni l'omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, ovvero della comunicazione di inizio di attività lavorative da parte dei componenti del proprio nucleo familiare. Contestualmente alla denuncia i finanzieri hanno anche interessato la sede provinciale dell'Inps per i provvedimenti di competenza in ordine alla decadenza e al recupero del beneficio.